Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi presento il Portola by Trabuco Sempre in formato da 30 ml con 3 mg di nicotina Dietro ci sono scritti la data di quando è stato imbottigliato E l'aroma diciamo che è fatto con vaniglia, custard E il Rich Pipe Tobacco Qua c'è scritto dietro, non so se si legge bene Comunque ci sono scritte queste annotazioni in rosso Adesso l'ho aperto, nel frattempo ho fatto il refill Il profumo è buonissimo La presentazione di questo liquido è una miscela di tabacco Virginia And Burley, non so ora di preciso che tabacco sia Con un aroma di vaniglia, che è la vaniglia custard Cioè la fine del mondo ragazzi Il profumo già è micidiale Ho appena fatto il refill Adesso me lo vado a svapare E vediamo di cosa sa Wow Mamma mia ragazzi non ho parole Ovviamente lo danno come c'è scritto nella confezione A true aromatic pipe tobacco flavor C'è praticamente un vero aroma di tabacco da pipa Ecco in poche parole in italiano Cioè è eccezionale E' il sogno di tutti gli amanti della pipa Che magari vogliono smettere di fumare Quindi di non avere diciamo tutto la puzza ecco addosso di pipa Eccetera eccetera Però vogliono comunque avere il sapore buono del tabacco Cioè questo è indicatissimo ragazzi Mamma mia Non si può capire ragazzi È la fine del mondo Che il bello è di questa marca Trabuco Che Cioè mi stupisce a ogni svapata Nel senso che Ogni svapata sento comunque Il tabacco Ma C'è un tabacco eccezionale Nel senso proprio si capisce Che è stato davvero lavorato il tabacco Messo a macerare E poi comunque Estratto l'aroma Proprio in modo organico E tutto Infatti Cambio le coili ogni due giorni Perché comunque Essendo organico In pesta in una maniera assurda Quindi Cioè è normale Mi ci piace Wow Cioè il bello di questa marca Praticamente è che Questi liquidi Io me li svapo Tutto il giorno praticamente Nonostante siano dei tabaccosi Comunque abbastanza forti Dall'aroma deciso Intenso Non molto dolci A parte vabbè Il sicamor Se non mi sbaglio Il balboa Che hanno comunque Delle note dolci Sono comunque Dei liquidi tosti Ma non stufano affatto Ragazzi Cioè Ogni svapata Richiama l'altra Peggio della droga Mamma mia Mamma mia Mamma mia Cioè È estasi pura ragazzi È estasi Cioè non me lo Sarei mai aspettato Da questi liquidi Perché comunque Non sono pubblicizzati affatto In Italia Infatti io li ho conosciuti Su Instagram Così per caso Ho visto questa marca Ho detto vediamo Li ho contattati Sono stati disponibilissimi Poi tramite il sito Ho fatto tutto Cioè sono Eccezionali Mamma mia Non si può capire Ragazzi Si deve solo provarli Per capirlo Cioè Anche detto così Spiegato a parole Le mie sensazioni E tutto Già si capisce qualcosa Però Provarli è un altro conto Ragazzi Cioè Micidiale Detto ciò ragazzi Portola By Trabuco Dopo vi metterò Il link In descrizione Dove poter acquistare Questi liquidi Dal sito Direttamente Speriamo che poi Avrano anche Al mercato italiano Quindi saranno Più accessibili Diciamo Come tempi di spedizione Anche se devo dire Che in una settimana Mi hanno spedito tutto A dirvi la verità Quindi Sono stato ultra felice Non me lo aspettavo Sinceramente Questa celerità Dalla parte loro Della spedizione Mi è arrivato tutto In una settimana Quindi Vi metto il link In descrizione Vi do appuntamento Al prossimo video Come sempre Se vi va ragazzi Lasciate un mi piace Iscrivetevi al mio canale E se vi va Iscrivetevi anche Al mio Gruppo Facebook Vape Sicily Ciao ragazzi Faccio l'ultima sbappata Ciao Ciao